Dopo Milano, Bari, da vent'anni sede del più grande stabilimento italiano Bosch, ma soprattutto territorio, ricco di aziende, università e centri di ricerca d'eccellenza. Per questo la multinazionale tedesca ha scelto di puntare ancora una volta sul capoluogo pugliese, inaugurando nel centro cittadino, in via Melo, la seconda sede della scuola di formazione Tech. Una realtà che, devo dire, ha dimostrato all'interno del gruppo di avere delle risorse umane straordinarie. È rivolta a collaboratori Bosch, ma soprattutto alle aziende esterne di ogni settore, a partire dal distretto meccatronico, che in Puglia è tra i più all'avanguardia in Italia, per dare un aiuto concreto di crescita alle piccole e medie imprese, alternando percorsi in aula con momenti sul campo. Si rivolge a tutte le aziende del territorio pugliese e anche delle regioni vicine, che si rivolge ad imprenditori che vogliono investire non solo nei prodotti, non solo nelle tecnologie, ma soprattutto nella formazione. Formazione tecnologica, manageriale, esperienziale. Formazione, innovazione, ricerca, le priorità per creare sviluppo manageriale e lavoro per i giovani. In Puglia, dopo la crisi del 2009, ha fermato l'amministratore delegato Dambach, abbiamo trovato i partner giusti e il sostegno della regione, che plaude l'iniziativa fondamentale per clienti e fornitori. Questo vuol dire crescita complessiva del sistema. Più le nostre microaziende e medie aziende crescono, più c'è la possibilità che esportino e che si sciolgano da un vincolo verso un unico committente, aumentando il proprio mercato.